Ciao a tutti! Questa settimana è iniziata con una notizia bomba. Lunedì 16 ottobre 2023 i social sono letteralmente esplosi. Il Carolina Reaper non è più il detentore del record come peperoncino più piccante del mondo. Ed Curry e il suo team, dopo più di dieci anni di duro lavoro, sono riusciti finalmente a stabilizzare un peperoncino pazzesco. Il Pepper X. Con ben 2.693.000 Scoville, il Pepper X distanzia il Carolina Reaper di un milione di Scoville. Per portarlo in giro ci vorrà il porto d'armi. Un'università del Carolina del Sud ha condotto per ben quattro anni test su questo Pepper X e ha ottenuto così una media di appunto 2.693.000 Scoville. Ciò significa che ci sono degli esemplari ancora più piccanti. Ci sono voluti più di dieci anni per stabilizzare questo incrocio prima di arrivare a selezionare quelle particolarità genetiche che ci interessano. Ed e il suo team avviano più di 100 incroci ogni anno, ma si ritengono fortunati se due di questi riescono a terminare il ciclo di dieci anni. Ottimo lavoro Ed! E chissà tra dieci anni che cosa tirerai fuori. Piccanti saluti!